Dal litorale a Puano all'Argentario, passando per San Rossore, Vada o il Golfo di Baratti. Il fenomeno erosivo tocca quasi tutta la costa toscana, ma la situazione pur complessa è costantemente monitorata. La regione ha messo in atto una serie di interventi di difesa e ripascimento degli arenili. Alla foce del Frigido, un intervento molto importante al povero uomo che partirà l'anno prossimo, un intervento qui alla Marina di San Rossore, poi è in corso Vada, San Vincenzo. Abbiamo programmato un intervento su Baratti, su Punta Ala, quindi sono tanti i punti che abbiamo identificato e sui quali ovviamente mettiamo in campo una progettazione che fra l'altro non è banale perché tiene conto di tutta una serie di variabili, insomma che chiaramente una dinamica come quella della costa deve avere. La fotografia della costa toscana e degli interventi in corso è stata scattata stamani nel corso di un convegno che si è svolto nella tenuta di San Rossore, al quale hanno preso parte oltre rappresentanti della regione anche dei parchi dell'AMMA e dell'ARPAT. Riteniamo di avere anche le sufficienti conoscenze tecniche per poter intervenire con opere che cercano di contrastare nel medio-lungo termine, quindi non ripascimenti stagionali ma opere vere e proprie che siano ripascimenti strutturali perché magari impiegano materiali dalla granulometria più apprezzabile o perché si tratta di pennelli o scogliere o manutenzione, opere già realizzate in passato, questo ovviamente in un'ottica e nella regione complessiva. Le procedure, peraltro, sono adesso più snelle e gli interventi possono essere effettuati anche dai comuni e dagli operatori con un quadro autorizzatorio semplificato.